Allora, io mi sento libero. Sinceramente, lo lascerei il numero a qualcun altro. No, a me non mi sta bene. Lo dico subito. Ma tu hai detto che eri cambiata, non eri più gelosa. Quella è la parte mentale che viene fuori, ma c'hai sempre la stessa scuola. Non sono più gelosa. No, non ti sta bene. Eh, non ti sta bene. Tu vuoi veramente prenderti il numero di altre persone? Eh, perché no? No. Allora, già per me dimenticare quella cosa che è successa l'anno scorso è una roba pesantissima. e tu dovresti in qualche modo cercare di aiutarmi, no? E infatti non mi sembra che mi sono tirato dietro. No, non esiste proprio, te lo puoi scordare. Non mi sembra. Cioè, tu hai voglia di rimanere, ma ti sei svegliato l'ormone tutti insieme, quindi? No, non mi sei svegliato nessun ormone tutti insieme, assolutamente. Però non mi sei svegliato nessun ormone, tutto insieme, assolutamente. Ma come puoi solo pensarci? Io dico solo questo, come puoi solo pensarci? Perché evidentemente siamo in due posizioni. Te lo dico io, perché evidentemente non si è stato abbastanza bene, perché quando passi una bella serata con una persona e ci stai bene, non hai la necessità il giorno dopo di vedere qualcun altro. Quindi per me, Maria, ci metto un punto, Ale? Va bene, mettoci il punto. Tu si interrompe qui? Sì. Non voglio che esce con altre persone. Siccome io non sono nessuno per dirti quello che devi fare, sei liberissimo, a 40 anni sei un uomo, non te lo devo dire quello che devo fare. Io però so io quello che devo fare. Allora, tu fai quello che devi fare. Grazie. 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 Grazie.